Buongiorno professionisti! Oggi vi presentiamo il nuovo sistema X-Lock di Bosch Professional. Innanzitutto vi spiegheremo il principio di funzionamento del sistema, dopodiché ve ne descriveremo i vantaggi. Poi passeremo alla compatibilità degli accessori e vi mostreremo quanto sia robusto il sistema X-Lock e quali siano gli utensili e gli accessori che ne dispongono. Potete guardare il video in tutte le sue parti, oppure saltare da un capitolo all'altro. Nell'info box trovate i punti dei vari capitoli. Come sapete, da più di 80 anni, nelle smaragliatrici angolari, gli accessori vengono fissati sempre nello stesso modo, con una flangia, un dado, una chiave o anche senza chiave. Ma ora, grazie a X-Lock, arriva un'innovazione che vi semplificherà la vita. In sostanza, prendete il disco, lo innestate sulla smaragliatrice angolare e con un semplice meccanismo a levetta potete anche sbloccare il disco. Ipotizziamo che vogliate sostituire i vostri accessori, ma che abbiate perso la chiave, o il dado, o la flangia. Perderete molto tempo a cercarli e nel peggiore dei casi potreste anche non poter più proseguire il lavoro. Se i pezzi sono andati persi, dovrete addirittura a riacquistarli. Ma con X-Lock questo non vi capiterà più. Non ci saranno più pezzi che si possono perdere. Avrete soltanto la smaragliatrice angolare e l'accessorio, che potrete agevolmente innestare direttamente sulla smaragliatrice e sbloccarlo nuovamente grazie al meccanismo a levetta. Soprattutto nella sgrossatura, spesso il dado in tralce può graffiare il pezzo in lavorazione. Grazie a X-Lock, il dado di sarraggio non serve più e potete subito iniziare a smaragliare senza problemi. Un altro vantaggio del sistema X-Lock è la velocità. Con X-Lock sostituerete l'accessorio in pochi secondi. Mentre il mio collega ha sostituito un solo accessorio, nello stesso tempo io ne ho sostituiti più di uno e posso già riprendere il lavoro. Se il vostro disco è usurato oppure se volete cambiare applicazione, non dovrete più interrompere il lavoro per cercare le chiavi con cui sostituire il disco. Il sistema X-Lock consente una sostituzione semplice e rapida. Così riprenderete subito a lavorare. Con i dischi diamantati è particolarmente importante il corretto senso di rotazione. Lo vedete qui, la freccia sulla smaragliatrice angolare e la freccia corrispondente sull'accessorio. In caso di montaggio errato, lavorerete molto più lentamente. Il disco durerà molto meno e la qualità del lavoro sarà inferiore. Con X-Lock potrete montare l'accessorio soltanto nel senso corretto. Ossia così. Montarlo in modo errato è impossibile. Anche montare spazzole e corone diamantate è facilissimo, senza bisogno di usare chiavi. Sentirete chiaramente dallo scatto che l'accessorio è fissato in sicurezza. Guardiamo ora un po' più da vicino il principio di funzionamento del sistema X-Lock. Qui vedete una sezione degli ingranaggi e della capsula X-Lock. Tirando la levetta, il meccanismo di sblocco viene azionato e vengono aperte le ganasce. Il disco può quindi essere tolto. Innestando il disco, le ganasce vengono bloccate. Così il disco è montato e fissato in modo sicuro. Il sistema X-Lock offre una gamma di accessori completa e una buona parte di questi sono anche compatibili con le precedenti smeragliatrici. Il sistema X-Lock non è soltanto semplice, ma anche molto robusto. Anche se la smeragliatrice dovesse cadervi, l'accessorio resterà saldamente ancorato sull'utensile. E il meccanismo, naturalmente, rimarrà perfettamente funzionante. L'abbiamo collaudato noi stessi. Anche dopo diverse cadute, X-Lock continua a funzionare alla perfezione. E nemmeno la polvere è un problema per il sistema X-Lock, né per il suo meccanismo. L'abbiamo collaudato in condizioni di lavoro reali, sia in test sul campo, sia in condizioni estreme, nella camera a polvere. La levetta d'apertura è in plastica, così potrete azionarla anche dopo impieghi prolungati, in quanto non si surriscalda. Inoltre, è estremamente resistente e rinforzata con acciaio. Ci è stato chiesto, il sistema si può aprire o allentare mentre il disco è in rotazione? No, un apposito meccanismo brevettato lo impedisce. E per consentirvi di usare X-Lock in ogni area del mondo, abbiamo collaudato il meccanismo nelle condizioni climatiche più diverse. X-Lock funziona anche in situazioni di umidità, freddo o caldo estreme. Le ganasci di X-Lock sono concepite in modo da essere protette. In altri termini, se anche le urterete, inavvertitamente non subiranno danni. Naturalmente, abbiamo severamente collaudato anche l'intero sistema X-Lock anche dopo centinaia di ore di funzionamento, con frequenti aperture e chiusure. Il sistema funziona come il primo giorno. Il sistema X-Lock è disponibile in tutta la gamma di mini angolari, da 900 sino a 1900 Watt, ed anche nelle smeraglietrici angolari a batteria da 18 Volt in varie versioni. A ciò si aggiungono tutti gli accessori, attualmente nei diametri da 115 e 125 mm. In futuro, anche nei diametri da 100 e 150 mm. Se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere con un vostro like. Se desiderate ulteriori informazioni su X-Lock e su altri argomenti, visitate il nostro sito web. Sulla nostra pagina Facebook ufficiale potrete sempre trovare le ultime notizie su Bosch Professional. Nel nostro canale YouTube troverete molti altri video, e se volete essere sempre aggiornati sulle ultime novità, iscrivetevi alla nostra newsletter. A presto! Grazie!